Ciao e bentornati su AnnecessaryPix, il canale che vi fa scoprire un gioco nuovo ogni giorno. Io sono Paolo e oggi parliamo di Zeith House Diary 2. Che cos'è Zeith House Diary 2? È il seguito di Zeith House Diary. E fin qua mi sembrava abbastanza ovvio. Che cos'era Zeith House Diary 2? È un gestionale di sopravvivenza all'apocalisse zombie. Noi prenderemo il controllo di una serie di sopravvissuti e dovremo gestire le loro risorse e le loro attività fino al compimento di una missione che cambierà a seconda della missione che avremmo scelto all'inizio. Potremmo fargli fare varie cose, considerando sempre che ognuno dei nostri protagonisti ha una sua storia, ha una sua relazione con gli altri e che queste relazioni possono migliorare o peggiorare la qualità del loro lavoro. Dovremmo andare a fargli cercare delle risorse, andare a fargli liberare dei posti da zombie per andarci a insediare, fortificare i luoghi dove ci troviamo, costruire trappole, migliorare le armi, fare un sacco di cose varie ed eventuali. Tutto questo cercando di sopravvivere per un tot di tempo fino al completamento di una missione. Che cosa funziona di questo Zeif House Diary 2? Allora, in ordine, primo, partiamo dalla premessa che è un gioco imperfetto, è un gioco sviluppato in piccolo, è un gioco che chiaramente non ha grandissimi fondi, ma viene patchato molto spesso, quindi nel caso in cui incappiate in un qualche bug è molto probabile che, segnalandolo, se non l'ha ancora fatto nessuno, venga patchato e questo è molto apprezzato da un gioco così piccolo, il fatto che venga comunque seguito post-rilascio. Funziona il fatto che, rispetto al primo Zeif House Diary, ci sono le missioni ora, missioni che sono customizzabili, customizzabili per variarne il livello di difficoltà e quindi limitare la frustrazione a seconda del tipo di giocatore che siamo noi e di quanto vogliamo hardware la sfida. Funziona il fatto che ci sono degli eventi random che capitano durante le partite e questi eventi cambiano un po' il gameplay, fanno accadere qualcosa che non era pianificato e al quale dovremmo reagire e questa rottura del gameplay per introdurre un elemento di sorpresa funziona. Funziona la meccanica alla base, funziona il fatto che per vincere una partita di Zeif House Diary 2, fare una missione, sarà necessaria una combinazione di fortuna, di pianificazione delle risorse che abbiamo e le azioni che possiamo fare sono risorse, e una gestione del rischio, quanto rischiare, quanto non rischiare, stare sul sicuro, sapendo che comunque un rischio c'è perché sempre di zombie stiamo parlando, non di commercialisti, e questa tensione tra rischio, oso, non oso, va bene, va male, e quanto posso permettermi di perdere se questa cosa va male, funziona bene. Bisogna accettare che esista comunque anche una componente di fortuna. Tre cose mi lasciano per presso di questo Zeif House Diary 2. Il primo è che è virtualmente pressoché identico al primo Zeif House Diary. Hanno migliorato un pochettino la grafica, è un po' più carino, c'è qualcosina in più, tipo la possibilità di customizzare la missione, di interagire in questo modo, ma il 95% delle meccaniche di quello che vedremo è assolutamente preso di pari pari a Zeif House Diary. Devo dire che mi aspettavo qualche innovazione in più tra il primo e il secondo capitolo. Seconda critica che faccio a Zeif House Diary 2 è che i combattimenti sono molto, molto oscuri. Nel senso che noi ci troveremo a dover fare delle cose, entrare dentro una casa per saccheggiarla, eccetera, eccetera. A un certo punto il gioco ci darà il risultato di quella che è stata la nostra azione, ma noi non sappiamo che cosa e quanto influisce sulla probabilità di riuscire in una certa azione. Cioè non ci viene detto, se siete in due, uno con una pistola, uno con un fucile d'assalto, avete abbastanza munizioni, allora se ci sono dentro la casa sette zombie, avete il 30% di uscirne sani, il 60% di uscirne feriti, il 10% che vi muoia qualcuno, una cosa del genere, perché non vediamo mai l'effetto reale numerico delle cose che facciamo. Neanche, tanto per capirci, neanche col train and error, cioè neanche dicendo, ah ok, guarda, ho messo la pistola, ho tirato un dado da 10 per stabilire se avevo colpito, non ho messo la pistola, tirato un dado a 4, non lo so, invento. Non abbiamo l'effetto dell'efficacia delle cose che facciamo, delle scelte che prendiamo. E questo per un gestionale è proprio un po' un peccato, perché mi consegna di andare, mi obbliga ad andare molto alla cieca, che sì, simula l'ambientazione che vogliono simulare, però è anche un po' frustrante. Terza cosa che mi permette di segnalare è che l'inventario dei nostri personaggi è assolutamente un incubo da gestire, perché potremmo spostare oggetti soltanto in determinati momenti del gioco, in cui ci prepariamo per la missione, ma non avremo una gestione dell'inventario in cui poter dire a Mario dai la pistola, grazie. Questo devo dire che è un peccato, è un controllo che non vedo perché non mi sia stato lasciato, quello di poter guardare l'inventario, spostare, gestire le varie cose. Peccato. E' un'opinione personale. The Firehouse Diary 1, il primo, il prequel di questo, era un gioco rozzo ma con un certo fascino. Divertente, difficile, molto difficile, molto complicato andare a finire le missioni, richiedeva tanta pazienza, aveva un sacco di potenziale, poteva diventare un giocone nel suo seguito. E' rimasto un gioco con un sacco di potenziale, difficile, che c'è tutte le cose, vale tutto quello che io potrei aver detto per l'1, vale per il 2, con qualche piccolo miglioramento secondario. Quindi, se conoscete già The Firehouse Diary e l'avete finito, se non lo conoscete, siete curiosi, tanto vale prendere il 2. se avete già giocato l'1 e basta dell'1 e vi è stufato, il 2 non vi farà tornare la voglia di giocare a questo gioco. Costa 7€ su Steam, è stato sviluppato dagli Screenfly Studio, e vi ringrazio per aver seguito questo episodio, noi ci vediamo al prossimo. Ciao!